L'accordo sull'istruzione del Covery Fund è un primo passo avanti importante. Innanzitutto è il risultato dell'iniziativa del nostro governo, ma non è ancora sufficiente. Servono strumenti eccezionali, bisogna innanzitutto garantire che le linee di credito non ingrossino ulteriormente il debito dei singoli paesi. Deve essere chiaro che l'Europa non ha il compito di salvare l'Italia o un singolo paese, ma deve salvare se stessa. Per questo è necessario insistere con lo strumento principale, quello degli Eurobond, per condividere il debito e superare questa situazione drammatica.